Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sulla FIPILI personale sulla strada per lavori, tra Lavoria e la diramazione per Pisa in direzione Firenze e tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Eraest in direzione Mare. A Firenze domani alle 18 si disputerà Fiorentina-Odinese, info sui provvedimenti di circolazione sui nostri canali social. Per i treni per un guasto alla linea ad Empoli, la linea Firenze-Livorno via Pisa è rallentata. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!